Nuovo svelto gel attivo, a contatto con l'acqua si trasforma in gel e resta intrappolato nella tua spugna e la mantiene carica dal primo all'ultimo piatto. Svelto gel attivo. Siamo nati per muoverci, per sorprenderci, per gioire, per creare, per emozionarci, per lasciarci il passato alle spalle. 208 è nata per noi. Nuova Peugeot 208. Let your body drive. Scoprila nelle piazze più open d'Italia e negli showroom Peugeot, anche l'America. Un amante della musica? Va pazzo per la musica. Come tutti. Oh, sono io. Ma te l'hai sentito l'ultima pubblicità della 208? Io però l'ho sentita, mi è voluto da vomitare, ho sboccato l'anima. Cazzo, ma dimmelo, no? Ah, beh, certo, vuole vedere la lezione. Comunque abbovinevole, eh. Ma che abominio sonoro. Ma che violenza, ma subito quel sonoraccio da sburone. Poi mi stavo riprendendo dalla sboccata, a un certo punto sento l'inglesata. Let your body drive. Con la voce aperta da studio. Ma non ce ne eravamo tolti dai coglioni. Eh, 2001, ah, non lo so, era nobile gara. Faceva tutto lui. Tutto lui, tutto lui. 6 film all'anno, 10 film all'anno. Sono sordi. Sono sordi, poteva avere una media del genere negli anni d'oro, negli anni... Vabbè, quelle sono cazzate, dai. Quelle sono cazzate. Loro sa benissimo cosa devono dire nelle interviste, no? Che rispecchino, come dire, l'immaginario collettivo della gente. Ah, il provino che mi ha cambiato la vita. Io non me ne frega mai neanche un cazzo. Come quando Adriana Volpi dice... Ma sai, io sono accompagnato una mia amica a fare un provino. E invece di notare lei, ha notato me. So quelle balle da Massaia. Lo so. Difatti l'ho beccato su Rai Sat. Ah, niente, se la racconta. Adesso io faccio teatro, che figo fare teatro. Fa tanto furioso. Ah, che figato. Se la racconta. Va là, che è meglio fare 4 cinque film all'anno, che ti imbottiscono il culo di soldi. Fai più il figo, sei più in vista, vai a Cannes. Andai così, prendo uno di mira e dopo fa tutto lui. In quegli anni lì faceva tutto lui, adesso chi per lui fa tutto lui. Chiaro. Ma chi lo lega? Frustrazione? Frustrazione mille. E perché chi è che non lo è? Alla fine sono più reale io che sono frustrato. Ah, certo, perché d'estate Roma è tutto un set. L'agente. Va bene, dai, no, ci sentiamo... No, era giusto. No, era per fatto che in al volo, perché appena l'ho sentito, è stato veramente un abominio. Abominevole, abominevole. L'abominevole voce delle felici. L'abominevole voce delle felici.